buongiorno buongiorno qui è gruppo gruppo misto stamani all'inizio ora andiamo a fare un sguardo qui vieni vieni buongiorno, buongiorno, aspetta il gruppo mattutino buongiorno, buongiorno, hop hop hop, che puoi fare? ecco sì vai, ragazzi buongiorno, buongiorno buongiorno, 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 e te il gruppo stamani, gruppettino abbastanza consistente, gruppo a zammere le formici te e io, vedi, facci pulisci, eh, gli ti dava la pulita per bene, dai dopo, tiriamo sempre l'acquista eccoci qua, siamo alla mia vaccia del castello è il panorama? buongiorno, 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 stamani giretto in duples, no ma ci si dovrebbe passare, ci si dovrebbe, condizionare, no, dai dai, passo io dai, non ti preoccupare, io sono la giancia, vai, mi dai le mezze pedalate e vieni dai, vai 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 vai, vai così, vai vai, non lo so eh, però provo, no non c'è tanta roba, vieni, vieni, ti prova? dai, provo io dai dai, va bene e adesso vediamo Nicola in azione guadando guadando che meraviglia, no queste sono ragnatele con la guazza, ma lo vedi che spettacolo con la brisa, negli anni è sempre stato così no, non c'è tanto nessuno, nessuno si può fare lì lì ma non esiste non esiste qui c'è una direzione a sinistra giù si allora aggiornamento alla fonte del Sili hanno messo una catena tanto per rimanere nel fattore turismo si sente in settimana dai semmai per giovedì per giovedì ci si risenti non è no io ma no